La musica è condivisione, in pratica partecipare, 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 partecipare e partecipare. La musica è condividere la nostra musica con tantissima gente, con generazioni speciali. Pezzi di Dylan, di Neil Young, di Kat Stevens, pezzi che conoscono un po' tutti, nei quali tutti si riconoscono, che magari avevano neanche voglia di cantarli, riarrangiati un po' alla nostra maniera. Il nostro spettacolo è uno spettacolo piacevole, coinvolgente, sarebbe un peccato perdere. Quindi, sono tutti a venire a vederci e a cantare con noi. Sì, ma dove e quando? A Rimini, al meeting lunedì sera 25 agosto, intorno alle 22. Mare, piscine, ovest e disondi. Non mancate! Vi aspettiamo! Sì, ma dove e quando?